La macchina prende velocità, lo stacco, Oco D'Ari di Galoppo mentre si avvantaggiano Mondo dell'Est, Orleano a esse e Miele dell'Orso. Numero 3, Oco D'Ari squalificato. L'accordo a Noche di Greppi, poi scavalcato dall'Angelo Azzurro, intanto 200 iniziali in 13.8 e Orleano passa a condurre davanti a Mondo dell'Est, Miele dell'Orso all'esterno, poi l'Angelo Azzurro, Orange dei Greppi, Osmane all'esterno, seguita da Lyric, siamo al passaggio di fronte alle tribune con Orleano in vantaggio. Mondo in coppia con Miele nella scia del leader, ancora l'Angelo Azzurro e Osmane alle Orange dei Greppi e Lyric, quindi Nascar a esse e oneroso. 46 appena abbondante per i 600, il gruppo è chiuso da Nuvola Stella Opec B e poi Nuvoloso e Nando Capar. Doppia fila lungo l'arco della penultima curva e al passaggio di metà gara in 1-2 e mezzo, Orleano al comando, allargo sempre Miele. Ora c'è il tentativo in terza ruota di Lyric, intanto Orleano è sempre saldo battistrada, Miele allargo, Mondo di dentro davanti all'Angelo Azzurro. Terza ruota per Lyric che incalza e sopravanza Osmane alle, 1-18 scarso, molto scarso il primo chilometro, mancano 4-50 alla conclusione, Orleano ha cambiato ritmo. 400 al palo, una di vantaggio per Orleano a esse al termine della retta opposta in 14-3, Miele all'esterno, Mondo lungo la corda, poi ancora l'Angelo Azzurro, Osmane alle allargo. Lyric in terza ruota, indresso della retta di arrivo, Orleano al comando, Miele all'esterno, Mondo che è lì, che guarda dove si apre il varco, tutto in mano. Orleano che cerca la fuga, poi Mondo, Miele di dentro, l'Angelo al ciglio esterno, Osmane alle, vince Orleano, su Mondo, poi l'Angelo, Miele, Osmane. Quindi da favorito, Orleano a esse, fa centro con Federico Esposito, il training di Arribondo, i colori della scuderia Wave. Al totalizzatore, Orleano a esse, paga 1,71, il tempo al chilometro intorno all'1,16 e mezzo. Il secondo posto per Mondo dell'est, ecco il primo di Orleano, il secondo di Mondo, poi al terzo l'Angelo azzurro, su un ottimo Miele dell'orso che se l'è fatta tutta di fuori e poi su Osmane.